La Direzione Investigativa Antimafia di Palermo ha eseguito il sequestro del patrimonio immobiliare riconducibile all'imprenditore, Angelo Ingrassia. L'imprenditore era stato coinvolto nelle indagini economico-patrimoniali disposte dal direttore della DIA ed eseguite dagli investigatori del Centro Operativo di Palermo nell'ambito del mercato ottofrutticolo della città che nel 2014 avevano consentito al Tribunale di Palermo sezione misure di prevenzione di emettere il provvedimento di sequestra a carico suo dello zio Giuseppe, di Pietro Lafata, nonché di Carmelo e Giuseppe Vallecchia, di un patrimonio societario immobiliare e finanziario di 250 milioni di euro. Attraverso le loro aziende consentivano alla famiglia mafiosa dell'acqua santa capeggiata da Galatolo di controllare il mercato ottofrutticolo anche con l'imposizione dei prezzi dei prodotti. A seguito di ulteriori accertamenti, il Tribunale di Palermo sezione misure di prevenzione ha emesso il nuovo provvedimento che ha disposto il sequestro di 12 unità tra immobili e terreni a Palermo e Ficarazzi che ricadono nel compendio aziendale dell'impero edilizia già sequestrata all'epoca. Il valore dei beni sequestrati è stimato in circa 5,5 milioni di euro.